Il primo mio salto in cucina avevo mi pare cinque anni. La cucina era una zona proibita, io non potevo entrare, era una zona bellissima. Io sono Yarananamè, dea dei nuovi gioielli. Questo nome può essere dato solo da chi appartiene alla famiglia reale e me l'ha dato il mio nonno. Da ragazza faceva June Rose Bellamy perché suo padre era australiano. Nel lontano 1954 io non potevo sposare in chiesa se non era cattolica. Iadana si è convertita al cattolicesimo con il nome di Maria Lucia. Lei non è solamente Iadana, non è solamente June Rose, non è solamente Maria Lucia. e sono tutte bestie della medesima persona. Pochi veramente vivono il momento. Il momento per loro è di passaggio, è di passaggio però va vissuta. Approvvisamente la mamma decide di sposarsi con il presidente della Repubblica, della Birmania. Non solo lascia il marito, ma lascia anche due figli per andare in un altro paese. Però lei è sempre stata così, ha sempre determinato alla propria vita e ci vuole coraggio. Quando sono tornata in Italia dopo il mio matrimonio con Neewin in Birmania e mi sono ritrovata senza un paese, senza una lira. Due figli che dovevano fare il servizio militare. Purtroppo quello è il prezzo che tu paghi per la vita che hai fatto. Purtroppo. 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 Purtroppo.